Pronto riscatto per il Marcianise che travolge la Mariano Keller, dimenticando il capo di Manfredonia. Pronti via, gialloverdi prendono subito il comando della partita. Al secondo, Allegretta, dal limite, fulmina con una conclusione mancina il portiere ospite Napoli. I padroni di casa continuano a macinare gioco, solo al decimo e fragello con un destro da furi ad impegnare per la prima volta in bimbo. Poi punizione dalla destra, buon stacco di Mazzeo che però manda alto. Il Marcianise continua a macinare gioco e Allegretta, Iadresta, lì davanti creano occasioni pericolose. La Niena tenta da fuori aria, ma è bravo Napoli a volare l'incrocio e salvare in angolo. Dall'altra parte Maisto sale più in alto di tutti, in bimbo si supera. Al quarantesimo arriva il raddoppio, Allegretta stacca indisturbato e firma la doppietta. A ritorno in campo la Keller passa al 3-4-3 ma incassa il triste di Allegretta. L'ex Turris ruba palla al difensore Bosco e defilato dalla destra con un colpo sotto trafigge Napoli in uscita. Il giallo-verdi continua ad attaccare, Verdone cross dalla sinistra, batte e ribatti, la palla arriva alla Niena che di piatto destro serve il poker ed è 4-0. Partita archiviata, nel finale Verdone sciupe il possibile 5-0 sul preciso assisi di Teneriello. Continua quindi il viaggio da capolista solitario del Progredor Marcianise che sale a quota 12 e domenica farà visita al Bisceglie. Grazie. Grazie.